Questa assemblea è un grande momento di confronto fra amministratori di tutte le nazioni e riguarda un network importante come Città Slocke, stile di vita, attenzione alle produzioni di eccellenza e quindi qualcosa di straordinario che si sta verificando a Torvieto. Devo fare i miei complimenti a tutti gli organizzatori e sono veramente contento che Ficulle possa far parte di questo network che potrà soltanto crescere e contribuire ad uno sviluppo sostenibile, al bene dell'ambiente e alla qualità della vita.